bambini di gaza uccisi anche dalle armi italiane bambini di gaza uccisi anche dalle armi italiane alla retorica della bontà cari amici la retorica della bontà che è come le bugie di pinocchio la retorica delle bontà alle gambe corte o l'asio lungo che hanno messo su youtube le foto di bambini di gaza straziati dalle armi israeliane poveretti coloro che hanno messo quelle foto che non sanno che l'italia è uno dei maggiori migliori produttori di armi al mondo noi produciamo le mine anti uomo e anti carro migliori al mondo da questo punto di vista siamo ancora uno dei paesi migliori e siamo grandi esportatori di armi ma vi documento tutti dio che bontà alla retorica della bontà cari amici ma che schifo ma che schifo la retorica della bontà andate a parlare con i bravi operai italiani che lavorano nelle industrie di armi andate a loro a dire che non devono più lavorare nelle industrie di armi e vediamo che cosa vi dicono vediamo vi dicono che loro tengono famiglia hanno mogli e figli e devono provvedere a mantenere la famiglia che hanno due o tre bocche da sfamare la retorica della bontà retorica della bontà che come le bugie di pinocchio ai le gambe le gambe corti naso lungo la retorica della bontà cari amici dio che bontà dio che bontà che l'italia mi pare che sia il secondo al terzo posto al mondo per esportazioni di armi andate a leggere le notizie che vi metto nel riassunto di questo video la retorica della bontà ma che schifo ma che schifo cari amici la retorica della bontà quanto siamo buoni sul web e non sappiamo le cose essenziali e cioè che tante bombe tante bombe che vanno su casa e sono state costruite in italia ma anche ma anche tante bombe che vanno in tutto il mondo ma stiamo stiamo zitti almeno stiamo zitti impariamo a tacere perché c'è il proverbio che dice che un bel tacere non fu mai scritto a la retorica della bontà cari abici com'è facile fare i buoni e poi esportare le armi e poi esportare armi meravigliose che noi produciamo le mine anti uomo e anti carro migliori che siano mai state prodotte a questo monto alla retorica della bontà cari amici ma che vergogna ma che vergogna dio che schifo che schifo cari amici ma che schifo va bene cari amici grazie e a tutti voi tanti saluti da serafino massoni grazie